Ed ora cambiamo argomento, si chiama Enrico ed è il primo nato all'ospedale Santa Croce di Fano. L'ultimo nato invece è Joshua, è andato per noi Massimo Foghetti. Non si è fatta attendere molto la prima cicogna dell'anno all'ospedale Santa Croce di Fano, dove alle 15.48 di ieri, primo gennaio, è venuto alla luce un bel maschietto, figlio di genitori residenti a Sant'Ippolito. Un evento veramente molto molto gradito. Ci dice il suo nome? Luca, Grottoli Luca, Enrico, Grottoli e la signora Miriana. Desiderato ovviamente? Desiderato e sicuramente sarà di buon auspicio anche per il nuovo anno, sono sicuro di questo. È il primo figlio vostro, quindi ancora più emozione. Il parto tutto bene? Tutto bene, tutto secondo i piani. Il grande merito va a lei, perché giustamente io più del sostegno non è che ho fatto chissà più di tanto, però è emozionante, molto. Ancora l'emozione è forte. Un altro bel maschietto di nome Joshua è stato invece l'ultimo nato del 2023, partorito alle 21.47 della notte di San Silvestro, dalla signora Jessica Emili, moglie di Marco Puglisi, entrambi di Senigallia. Il bambino del peso di 2,790 kg, pur essendo nato in anticipo rispetto al termine canonico, gode di ottima salute, così come la mamma. Stanno bene e probabilmente domani stesso torneranno a casa dall'ospedale, anche la mamma è il bimbo primo nato del 2024, a cui è stato messo il nome di Enrico. Primo gennaio, ore 15.48. Andate a Sant'Ippolito. Sant'Ippolito... Siamo a Sant'Ippolito, nella piccola frazione di Sorbolongo, precisamente. Quindi Sorbolongo aumenta di un'unità la popolazione. Normalmente decresce, invece ogni tanto qualche notizia di questo genere, fortunatamente... Aiuta. Sì, aiuta, sicuramente. Nel corso del 2023, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Fano, diretto, insieme a quello di Pesaro dal dottor Claudio Ciccoli, sono stati 704 i bambini nati, di cui 365 maschi e 339 femmine. Nello stesso reparto dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, il numero dei nati si è fermato invece a 466, per un totale di 1.176 bimbi rispetto ai 1.013 del 2022. I parti con l'epidurale sono stati 170, 10 in più rispetto all'anno precedente, 216 i cesarei, 2 i parti gemellari. Un momento in cui ancora i parti sono in calo, da noi abbiamo avuto circa 150 parti, tra Pesaro e Fano, di nascite in più, e quindi un bel lavoro grazie a tutta l'equip. E un altro dato in controtendenza è quello che aumenta il numero dei maschi rispetto a quello delle femminucce. Sì, anche questa è una novità. Di solito le femmine erano di più, questo è un dato del padre eterno, però insomma anche questa è la novità del 2024. L'abbiamo scoperto anche noi facendo le casistiche, con sorpresa, insomma. Ecco dottore, parliamo dei parti, parti che vengono fatti normalmente, parti che vengono fatti anche con tagli cesari. Ecco, come avviene questa pratica e se il dato riferito ai parti cesari è diverso rispetto all'anno scorso? Allora, noi logicamente calcoliamo, abbiamo fatto un primo calcolo sul numero dei tagli cesari, però il numero totale dei tagli cesari comprende anche quelli, diciamo, ripetuti. Quindi quello su cui la Regione ci chiede di diminuire, e come in tutta Italia, il numero dei tagli cesari sono i primi tagli cesari. e la nostra media si attesta intorno al 15%, che media nazionale secondo noi è un buon dato. Il nostro proposito è quello di ridurli sempre di più, e infatti facciamo l'epidurale, e anche l'epidurale sono stazionale, cioè è lo stesso numero dell'anno scorso, quindi le donne possono attingere anche a questa pratica, a questa cosa in più che gli viene data dall'ospedale gratuitamente, che qualche volta ci permettono poi di non arrivare al taglio cesario. A Pesaro invece la prima nata si chiama Vittoria Giommi, figlia di Marco Giommi e Pamela Carigi, che è venuta alla luce l'1 gennaio alle ore 12.15 all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Invece è stata Melissa alle ore 23.54 del 31 dicembre, l'ultima nata del 2023.